Ciao ragazze, allora nuovo video, per questo video ho pensato di parlarvi di un prodotto di cui mi avete chiesto davvero in tantissime soprattutto su Instagram e anche mi sembra in qualche commento sotto gli ultimi video si tratta anche questa volta di una novità che ho trovato da Lidl e che naturalmente non vedo l'ora di provare anzi avevo pensato proprio in questo video di provarlo per la prima volta con voi giusto per darvi anche un minimo, una recensione, volevo infatti creare un video un po' più completo ma prima di iniziare con il video voglio farvi vedere un pacchettino che ho ricevuto proprio questa mattina da Lalalab che praticamente è un'app, un sito, io vi consiglio per lo più di utilizzare l'app perché è molto più comoda che vi permette di stampare foto in vari formati in questo caso ho scelto di farmi stampare tra virgolette delle foto su alcune calamite sono davvero molto belle, si possono selezionare le vostre foto preferite e verranno poi stampate, questa addirittura è una foto di Ale, su queste calamite che sono alla fine molto sottili, abbastanza resistenti e che naturalmente si possono applicare sulla superficie che volete devo dirvi che sono fatte davvero molto molto bene, arrivate in pochissimi giorni e assolutamente se volete provare questo o altri prodotti da Lalalab ho anche a disposizione un codice sconto che trovate come sempre giù nell'info box insieme al link diretto per queste calamite che sono davvero un'idea originale per un qualsiasi regalo ma passiamo ora al tema del video con il nostro talasso scrub ebbene sì, da Lidl ho trovato un nuovo prodotto ed è il talasso scrub, scrub esfoliante una piacevole sensazione di rivitalizzazione con vitamina E e sale marino allora, come prima cosa vi consiglio assolutamente questo prodotto leggendo l'inci perché comunque ha un inci fatto abbastanza bene l'unica cosa troviamo un PEG 7 al secondo posto tra gli ingredienti però in questo caso ho voluto lo stesso dare un'opportunità a questo scrub nel provarlo perché per prima cosa è un prodotto a risciacquo e seconda cosa non è per il viso ma per il corpo quindi essendo un PEG con numerazione abbastanza bassa, non è proprio altissima ho pensato comunque dai proviamolo, vediamo come ci troviamo naturalmente quando ho visto questo prodotto da Lidl ho subito pensato al talasso scrub di Geomar di cui vi lascio una foto qui che io sinceramente non ho mai provato però davvero come packaging esterno e anche diciamo come formato mi sembra davvero molto simile poi naturalmente metto le mani avanti perché non avendo mai provato il talasso scrub di Geomar non so darvi ecco una recensione precisa su quel prodotto questo comunque è definito uno scrub corpo esfoliante che abbina le proprietà esfolianti e purificanti del sale marino alla priorità antiossidante della vitamina E rendendo la pelle morbida e pronta per ricevere i trattamenti specifici quindi praticamente è indicato come trattamento pre magari per il corpo prima di applicare una crema anticellulite o una qualsiasi crema corpo anche una crema solare di modo che appunto questi trattamenti successivi abbiano sul nostro corpo, sulla nostra pelle ancora più effetto il modo d'uso qui dice di miscelare il prodotto con la spatolina avremo sicuramente dentro una spatolina adesso la apriamo insieme e applicarlo su tutto il corpo ottimo io pensavo invece fosse uno scrub solo diciamo per le gambe, per i glutei eccetera invece no per tutto il corpo insistendo sulle parti più ruvide quindi sciacquarsi sotto il getto della doccia quindi da come è riportato qui sopra almeno consigliano di applicarlo sotto la doccia lo apriamo ora insieme wow è infatti qui abbiamo per prima cosa questa spatolina bianca e sembra un scrub molto liquido forse diciamo il sale è tutto nella parte inferiore e poi con la spatolina andando a mischiare si avrà appunto questo scrub semi liquido quindi credo che mixando diciamo i due elementi sia alla fine il prodotto che si va a cercare devo dirvi che la profumazione non si sente in questo momento ma vi farò sapere nel corso del video se almeno secondo me ha una buona profumazione la confezione contiene 600 grammi di prodotto quindi più di mezzo chilo e ha un pao di 12 mesi e mi piace il fatto che comunque sia un trattamento abbastanza completo c'è anche la cura appunto del prodotto quando hanno inserito questa spatolina il prodotto non si deve andare a miscelare con le mani in questo caso almeno secondo me è molto più igienico io ragazze in questo momento non so darvi una recensione quindi vi lascio al prossimo spezzone del video in cui vi proveremo appunto questo prodotto sulla mia pelle insieme e naturalmente vi darò tutte le mie prime impressioni allora ragazze per prima cosa come vi ho fatto vedere nel video questo è lo scrub sien vado ad aprirlo e naturalmente rimuovo in questo modo la pellicola lo scrub si presenta in questo modo quindi praticamente c'è questa soluzione liquida e sotto il sale marino per prima cosa naturalmente miscelo come è riportato anche sulla confezione i due ingredienti per almeno un minuto di modo che si amalgamano nel migliore dei modi devo dirvi che per ora la profumazione non mi piace moltissimo è più che altro non troppo dolce si sente proprio molto l'odore del sale dopo aver amalgamato i due ingredienti vedete lo scrub si presenta in questo modo quindi è facilmente applicabile naturalmente su tutte le parti del corpo essendo rispetto a prima molto molto meno accuso inizio proprio ora ad applicare il mio scrub sulla gamba e ci tengo a precisare che è la prima volta che lo utilizzo quindi per me saranno semplicemente delle prime impressioni non so se si può notare ma ho bagnato con abbondante acqua tutta questa parte della gamba quindi procediamo con il vero e proprio scrub prelevo quindi ora lo scrub con le mani e vado a passarlo sulla gamba devo dirvi che la consistenza mi piace parecchio e il sale marino fa un bellissimo effetto di scrub tutta tutta la gamba vado ora in doccia a risciacquare e ci vediamo fra pochissimo allora ragazzi intanto scusate per l'aspetto se sono struccata ma sono letteralmente appena uscita dalla doccia e ho voluto farvi questo video proprio ora per dirvi tutte le mie prime impressioni riguardo il nostro talasso scrub scrub esfoliante insomma di Sien devo dirvi che prima in video mentre lo stavo applicando ho sentito come se la sensazione di sale o comunque la presenza del sale fosse troppa cioè forse ho pensato di non averlo mescolato bene in realtà se anche voi avrete questa sensazione no state tranquille è semplicemente che per fare lo scrub in questo caso sembra che ne occorra davvero tantissimo anche perché non è uno scrub per il viso ma è uno scrub per il corpo quindi anche se magari abbiamo questa sensazione un pochettino di pizzicore o comunque di sfregamento dato dal sale marino non è un problema perché vedrete che dopo la pelle sarà davvero liscissima e morbida infatti oltre alla fine ad effettuare lo scrub sulla gamba come vi ho fatto vedere prima ho approfittato in doccia e l'ho applicato anche sull'altra gamba sui glutei e sulla pancia e devo dirvi che come prima impressione appena proprio si sciacqua lo scrub la pelle risulta morbidissima come se si è appena appunto fatto la doccia e si è anche applicato una crema e questa cosa devo dirvi che è bellissima perché proprio lascia una sensazione molto fresca molto particolare proprio di pelle liscia che non mi aspettavo assolutamente devo dirvi che per 2,79 euro insomma meno di 3 euro secondo me è uno scrub ottimo non lo consiglio assolutamente per il viso sulla pelle del viso sempre uno scrub più delicato naturalmente però come appunto prodotto corpo secondo me è fantastico e assolutamente lo ricomprerei almeno come prima impressione perché non mi aspettavo ecco questa sensazione di pelle così liscia e levigata già appunto con la prima applicazione io penso a questo punto di farlo una volta a settimana sempre in doccia perché comunque è molto comodo si inumidisce la pelle si applica lo scrub se magari io ho fatto passare uno o due minuti e poi ho risciacquato tutto e veramente è un prodotto ottimo ad un prezzo eccezionale se dovessi consigliarvelo assolutamente almeno una volta provatelo e poi naturalmente fatemi sapere se vi è piaciuto e come vi siete trovate ci tenevo anche a chiedervi se per caso voi avete provato anche il talasso scrub originale di Geomar che sicuramente avrà un prezzo un pochettino più alto se magari vi siete trovate bene o meno con quello se ha questa consistenza e naturalmente se può farvi piacere un video confronto in cui proviamo magari entrambi gli scrub giusto per capire insomma qual è la differenza fra i due prodotti comunque ragazze con questo è tutto vi mando come sempre un bacio grande ricordatevi come sempre di lasciarmi un bel pollice in su di supporto iscrivervi al canale attivando la campanellina nell'info box trovate anche il link diretto al mio profilo instagram e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video ciao